Daniel, il vostro primo vinto nel Lamborghini in Blancpain Super Trofeo Series. Hai provato di essere il più rapido durante il weekend. E ora questo vinto, come è stato? È una grande emozione per me, perché è stata la prima volta in giro, la prima volta in giro con il Super Trofeo. È stato un grande weekend per me e per la squadra. Voglio dire grazie al Lamborghini. Per me è stata una carica fantastica, è una buona carica. E voglio dire grazie alla mia famiglia che supportano me per fare questo. Roman, sei stato con Daniel. Qual è stato il tuo weekend? È stato il nostro giorno. È stato molto felice oggi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho fatto un ottimo start. Ho avuto la scuola per la prima volta. E dopo che i miei tanti hanno finito il lavoro difficile. È stato un'ottima giovane oggi. Ho spero di continuare a venire per la fine della season.